ultimamente leggendo i vari commenti mi è sembrato di capire che alcuni di voi sarebbero stati interessati ad un mio video sul come affrontare lo studio di un brano musicale effettivamente in questi due tre anni non ha mai affrontato questo argomento semplicemente perché sono convinto che già di video che parlano di questa cosa ce ne sono agli osa però se me l'avete scritto probabilmente vorrete una mia versione considerate che ci sono varie scuole di pensiero la mia si basa sul buon senso buon senso che abbiamo tutti e che si sviluppa per quanto riguarda lo studio a scuola però mi sono reso conto anche con i miei allievi che questo buon senso nello studio quando si tratta di applicarlo allo studio di un brano strumentale è come se sparisse eppure è solo questione di buon senso ecco non parlerò di tecniche di studio intese come varianti ritmiche di accentuazione gruppi di note da ripetersi più o meno velocemente ho già fatto qualche video uno studio di list un preludio di buck uno studio di chopin e ultimamente on team di ravel dove ho mostrato quali possono essere le varianti che si potrebbero applicare per migliorare l'esecuzione di un brano l'esecuzione tecnica però oggi vorrei affrontare più che altro come approcciare lo studio cioè quali sono le fasi dello studio qual è la metodologia base per cui partiamo innanzitutto quando un brano non viene i motivi possono essere solo due o il brano è troppo difficile oppure la tecnica di studio che avete utilizzato è stata sbagliata ora per quanto riguarda la possibilità che il brano sia troppo difficile è una possibilità concreta soprattutto per gli autodidatti perché se sia un insegnante è difficile che l'insegnante assegni un brano che l'allievo non sia in grado di studiare accade agli autodidatti perché perché non è semplice prendere uno spartito e a colpo d'occhio capire se ci sono delle insidie tecniche particolari per cui si inizia un brano dopo magari un mese non si riesce a progredire ci si rende conto che era troppo difficile e qui c'è poco da dire sarebbe bene prendere questo brano lasciarlo in un cassetto e magari riprenderlo in un secondo momento per quanto riguarda invece la metodologia di studio della quale parleremo adesso io inizierei individuando 5 macro fasi cioè l'approccio innanzitutto quando abbiamo davanti per la prima volta un brano musicale direi di dargli una veloce lettura giusto per capire di cosa si tratta se ci sono delle tecniche particolari senza però razionalizzarle è lo leggiamo così in maniera molto superficiale lo possiamo fare sia a mani divise che se siamo in grado anche a mani unite è una prima lettura la seconda fase è l'inizio vero e proprio dello studio per cui direi fissiamoci degli obiettivi alla fine della nostra ora di studio dobbiamo aver letto e imparato due righe una pagina iniziamo a studiare però questa volta a mani separate categoricamente anche nel caso in cui riuscissimo a studiare a mani unite assolutamente no perché la mente ha bisogno di imparare cosa fanno le mani singolarmente la terza fase è l'unione delle mani siamo ormai in grado di eseguire quello che avevo studiato a mani separate ad una certa velocità si sono creati alcuni automatismi cominciamo ad unire la quarta fase inizia quando riusciamo a mani unite ad eseguire con una certa disinvoltura il brano direi che nella quarta fase potremmo inserire l'interpretazione intesa come fraseggio colori non come articolazioni cioè staccati legati potremmo anche inserirli nelle fasi precedenti la quinta fase consiste nel ripetere il brano che già sappiamo abbastanza bene ancora a mani divise affinché la mente possa avere una nuova una rispolverata riguardo a quello che le mani dovranno fare singolarmente quindi rafforziamo la memoria e abbiamo anche la possibilità di ricontrollare sullo spartito che abbiamo letto tutto per bene note dita colori eccetera eccetera quindi vedete che è un approccio basato sul buon senso un approccio progressivo abituiamo la mente a ad assimilare questo nuovo brano con aggiungendo elementi passo dopo passo è chiaro che non sono certamente a favore di quella scuola di pensiero che prevede lo studio direttamente a mani unite i motivi sono molti ma diciamone tre primo il primo motivo l'ho appena detto noi dobbiamo far imparare alla mente la mano sinistra e la mano destra indipendentemente potrei aprirci un capitolo su questo discorso e farci un video apposito però andiamo oltre il secondo motivo è che andremo comunque a sforzare inutilmente la mente perché dovremmo fargli fare due cose contemporaneamente prima ne impara una poi ne impara l'altra poi uniamo il terzo motivo e quindi viene un po da ridere com'è pensabile solo pensabile di riuscire a studiare direttamente a mani unite un brano magari tecnico del proprio livello significherebbe riuscire già a prima vista a leggerlo e quindi non si tratterebbe di un brano del proprio livello ma di un livello infinitamente inferiore non esiste nessuno a qualsiasi livello a nessun livello che sia in grado di leggere a prima vista un brano tecnico soprattutto del suo livello per cui insomma è una cosa che non riesco proprio a concepire e non sono neanche a favore di quella scuola di pensiero che prevede di studiare direttamente con l'interpretazione sempre per il discorso di progressività prima pensiamo alla tecnica poi pensiamo all'interpretazione io sono sono più per la scuola di Liszt non so se lo sapete ma Liszt suggeriva ai suoi allievi nella prima fase di studio di eseguire di studiare o suonare solamente le note del brano senza tempo cioè ogni nota valeva come le altre lui diceva togliamo alla mente tutte le altre difficoltà che non siano quelle tecniche suonate tutte le note da un ottavo da un quarto quello che volete così la mente imparerà le posizioni io sono di questa scuola figuriamoci se devo pensare di metterci anche l'interpretazione a meno che il brano non sia davvero così semplice tecnicamente va bene allora possiamo anche permetterci di interpretare direttamente ultima cosa per quanto riguarda queste diciamo macro fasi per questo approccio è meglio studiare un brano sotto livello ma eseguirlo molto bene magari in maniera molto veloce che rischiare di suonare male tecnicamente un brano di livello superiore mi ricorderò sempre una mia amica diplomata che aveva delle carenze tecniche è andata da un grande concertista adesso non voglio fare il nome per chiedere suggerimenti e lui gli ha detto le ha detto perché è una ragazza prendi gli studi che facevi i primi 4 5 anni ma li fai al doppio della velocità giusto per farvi capire come è importante eseguire bene un brano tecnicamente per progredire a livello tecnico ora partiamo con il metodo di studio tre premesse ma molto importanti quando si studia non si deve assolutamente utilizzare il pedale so che per alcuni in primis io è una cosa abbastanza difficile perché quando si ha una certa padronanza con il pedale si tende ad utilizzarlo anche in fase di studio questa cosa non va bene per due motivi il primo è che il pedale comunque rende le cose più facili passaggi più facili e in fase di studio noi non dobbiamo rendere facile assolutamente nulla pensiamo alle varianti alle tecniche che si usano per studiare quelle un po specifiche non fanno altro che aumentare la difficoltà del passaggio così che poi quando lo eseguiremo senza tecnica per la mente sarà come giocare il secondo motivo per il quale non va utilizzato il pedale è che il pedale maschera gli errori e penso che le spiegazioni non servano seconda premessa importantissima la diteggiatura noi suoniamo con le dita quindi note a parte la prima cosa che la mente deve memorizzare sono le dita se noi ogni volta che eseguiamo un determinato passaggio cambiamo le dita perché non le abbiamo memorizzate perché non leggiamo le dita che sono scritte sullo spartito la mente va in tilt perché si chiede vabbè una volta metti il 2 una volta 3 una volta al 4 poi in fase di esecuzione nascono i problemi io sono convinto che 70 per cento degli insuccessi delle nostre esecuzioni deriva da questo da questo punto perché la mente non ha ben memorizzato quali dita utilizzare è insicura tra l'altro permettetemi dovremmo essere più umili meno presuntuosi se abbiamo la fortuna di avere uno spartito con delle dita significa che c'è stato un revisore che è stato pagato e una volta si usava adesso non si usa più è stato pagato per passare ore e ore a provare determinati passaggi e ha individuato delle dita appropriate per quel passaggio sicuramente il revisore ne sa più di noi per cui seguiamo le dita scritte certo ci sono poi delle dei casi in cui le dita potrebbero anche essere modificate ma sono casi rari e comunque questa cosa non modifica la regola base seguiamo le dita scritte terza premessa e l'ultima nella prima fase di studio l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare è la velocità la velocità è una conseguenza logica di uno studio fatto come si deve quello che dobbiamo pensare nella prima fase è fare le note giuste con i valori giusti con le dita giuste basta e ricordiamoci che quando iniziamo un nuovo brano e soprattutto quando lo eseguiamo lentamente perché siamo in fase di studio è come se la mente si settasse in modalità registrazione per cui andrà a registrare a memorizzare tutto quello che facciamo e se noi in fase di studio una volta sbagliamo il dito una volta il valore una volta la nota come ho detto prima la mente va in tilt dunque come possiamo evitare che la mente vada in tilt e memorizzi cose sbagliate e memorizzi gli errori dobbiamo suonare molto lentamente a quale velocità c'è una bella risposta che mi aveva dato una volta un insegnante la velocità di studio è quella che ti permette di eseguire o di suonare quello che stai studiando senza errori questa è la velocità di studio a dimenticavo quando noi sogniamo lentamente andiamo anche a sviluppare la memoria fotografica visiva associativa in questo caso il l'associazione che c'è tra la lettura che stiamo facendo dello spartito e i suoni per cui suoniamo lentamente ok seconda parte del video entriamo un po più nello specifico quando prendiamo per la prima volta un nuovo brano dobbiamo vederlo come immaginarlo come fosse un percorso ad ostacoli e noi dobbiamo imparare a correre su questo percorso e a superare tutti gli ostacoli gli ostacoli ovviamente sono i problemi tecnici come si fa anche qui è questione di buon senso sempre lo è si studia poco alla volta come se volessimo memorizzare una poesia poco alla volta significa uno massimo due battute alla volta si ripetono a loop senza fermarsi in maniera sempre più veloce l'ideale sarebbe riuscire ad eseguirle alla fine di queste ripetizioni a memoria ma non una memoria razionale volontaria la memoria è una conseguenza della ripetizione quando noi ripetiamo 20 30 volte due battute per forza di cosa alla fine riusciremo ad eseguire la memoria cioè senza più guardare lo spartito guardando anzi le mani i vantaggi sono due il primo che in questo caso sviluppiamo sempre la memoria fotografica associativa nel caso specifico il rapporto tra il movimento delle dita e il suono e il secondo vantaggio è che togliamo alla mente un problema cioè il dover guardare uno spartito e trasmettere le dita quello che c'è scritto ho già fatto un video sullo sullo sforzo che viene richiesto alla nostra mente quando suoniamo ad esempio a prima vista ecco se noi dopo queste ripetizioni riusciamo ad imparare a memoria queste due battute togliamo il 50 per cento dello sforzo alla mente attenzione sto per dire una cosa che potrebbe sembrare banale ma non lo è minimamente se noi decidiamo di studiare due battute la volta significa che studiamo la prima la seconda battuta poi quando verranno studieremo la terza la quarta poi la quinta la sesta e così via qual è il risultato in questo modo corretto di studiare e lo devo far sentire altrimenti non avevo previsto l'esempio anzi non ho preparato neanche nulla vabbè ho preso il primo spartito l'inno americano l'inno americano mettiamo che volessi studiare le prime due battute a loop ora suggerò la terza e la quarta a loop ok qual è il risultato che la mente sa perfettamente la prima la seconda battuta e la terza e la quarta questo è il risultato qual è il problema che tra la seconda e la terza battuta la mente non sapeva cosa fare infatti ha fatto una pausa perché non abbiamo mai studiato quel collegamento quindi quando noi studiamo a battute ricordiamoci di studiare anche a cavallo quindi l'ultima nota della seconda battuta e la prima nota della terza battuta in questo caso l'ultima notare accordo della prima battuta è questo il primo della nuova battuta questo quindi a questo punto la mente sa anche cosa avviene a cavallo di battuta e l'esecuzione sarà fluida questa cosa è fondamentale ora mi sono reso conto che ho dimenticato di dire un paio di cose la prima è che stiamo parlando del mani separate o meglio queste tecniche valgono anche a mano unite però adesso stiamo parlando di mani separate la seconda cosa è che sarebbe bene prima di iniziare la sessione di studio porsi degli obiettivi quindi alla fine dell'ora di studio dobbiamo arrivare alla seconda riga in fondo alla pagina questo perché nel momento in cui riusciamo a raggiungere questo obiettivo quindi ad eseguire a mani separate quello che ci siamo prefissato abbiamo due strade la prima è andare a dormire il giorno dopo continuare a studiare a mani separate e così via fino alla fine del brano la seconda strada invece è cominciare ad unire quello che a mani separate sappiamo abbastanza bene io opterei per questa seconda possibilità cioè studiare magari per una due tre settimane solamente a mani divise per quanto possa essere una cosa utile è un po' frustrante e secondo me abbiamo bisogno anche di gratifiche per cui una volta fissato un obiettivo iniziamo ad unire e ovviamente ci comporteremo esattamente come abbiamo fatto finora quindi sempre due battute alla volta a loop finché ci vengono e così via cosa importante alla fine di ogni sessione di studio dovremmo cercare di risuonare il brano il più pulito possibile cioè non fare errori sapendo che quello è il ricordo che avrà la mente di quella sessione di studio e siccome la mente una volta che abbiamo finito di studiare non va a dormire ma comincia anzi a elaborare le nozioni le informazioni che gli abbiamo dato anche quando dormiamo è bene che le ultime nozioni che gli diamo siano quelle giuste per cui l'ultima esecuzione pulita senza errori ok ultima parte poi abbiamo finito siamo nella seconda fase di studio in questa fase ormai il brano lo sappiamo l'abbiamo studiato a mani divise battuta per battuta l'abbiamo portato a velocità poi l'abbiamo studiato a mani unite battuta per battuta l'abbiamo portato a velocità lo sappiamo ormai eseguire abbastanza bene ovviamente che sia tutto il brano o una parte di esso non importa sarà il fatto che siamo nella seconda fase nella seconda fase non dobbiamo più preoccuparci delle note, dei valori, della deteggiatura il brano lo sappiamo probabilmente già a memoria o quasi cosa manca affinché il brano sia perfetto? magari un po' di velocità, un po' di sicurezza ecco che in questo momento possiamo inserire le tecniche di studio le varianti ritmi, gli accenti eccetera eccetera delle quali però non parlerò le possiamo inserire qui perché la mente ormai è abbastanza rilassata non è più impegnata come prima non avremmo potuto prima dargli da digerire anche le tecniche di studio qui invece possiamo farlo ultimi tre velocissimi punti primo punto sarebbe bene abituarsi a suonare un brano a più velocità cioè noi fissiamo una velocità di riferimento 100 però sappiamo che non siamo dei computer potremmo una volta decidere di eseguirlo a 105 oppure a 95 a volte non lo decidiamo semplicemente l'emozione ci farà correre o magari anche se è difficile rallentare ma siamo noi che magari in quel momento in quella situazione vogliamo eseguirlo un po' più lenti perché ci sentiamo più sicuri ecco attenzione non confondiamo il ci sentiamo più sicuri col siamo in sicurezza eseguire un brano a 95 quando la mente è abituata ad eseguirlo a 100 a volte è un rischio ecco perché dico giochiamo con i limitrofi della velocità 100 è il riferimento proviamo a usare anche un po' il metronomo e abituiamoci a suonarlo a 98 96 94 arriviamo a 90 e arriviamo magari anche a 110 diamoci delle tolleranze proprio per non rischiare di eseguirlo poi in una certa situazione ad una velocità che non abbiamo mai sostenuto prima secondo punto nel momento in cui noi eseguiamo il brano e dovessimo sbagliare un determinato passaggio magari renderci conto che c'è una determinata battuta che non ci viene particolarmente bene non è che dobbiamo ripartire dall'inizio della riga dobbiamo concentrarci solo su quella battuta mi viene da ridere perché conosco delle persone che magari sono al terzo rigo sbagliano una battuta, una nota ricominciando a capo hanno bisogno di una rincorsa ma di questo tipo cioè partire addirittura da capo no, non ha proprio senso cosa bisogna fare? si individua la nota che si è sbagliata bisogna stare attenti la nota è sempre e unicamente una sola cioè c'è una prima nota che sbagliamo noi dobbiamo partire dalla nota precedente perché probabilmente la mente magari ci sarà un salto un passaggio un cambio di vita di tempo quello che sia non ha ben metabolizzato questo passaggio per cui suoniamo la nota prima della nostra nota sbagliata e la nota sbagliata e facciamo un po' come abbiamo detto prima riguardo al cavallo di battuta dobbiamo focalizzare tutte le nostre concentrazioni su quell'ostacolo se noi partiamo prima succedono un paio di cose sgradevoli la prima è che alla mente diamo da superare degli altri ostacoli quelli delle battute precedenti e la seconda è che disperdiamo la concentrazione per cui mi raccomando e con questo concludiamo l'ultimo punto impariamo anche a partire da qualsiasi punto del brano se io adesso apro un brano e voglio partire dal quarto rigolo la terza battuta lo faccio molte persone non riescono hanno sempre bisogno di un punto di riferimento dell'inizio di una frase di un nuovo tema o di un punto particolare che si ricordano no come quando leggiamo un libro noi non dobbiamo se siamo arrivati alla quarta pagina partire dalla prima iniziamo da quella esatta parola la stessa cosa deve accadere con lo spartito ma è una cosa davvero banale a volte io credo che sia più la paura che ci blocca leggere uno spartito che devo suonare è come leggere un libro non è difficile partire da metà libro leggere e non deve esserlo neanche partendo da metà spartito ultima cosa proprio una chicca quando io studio dei brani facili tecnicamente classico notturno di Chopin che cosa faccio? una volta che l'ho imparato e lo so bene comincio a trattarlo come fosse uno studio di velocità una cosa del genere eccetera sempre per quel motivo di rendere un brano semplice tecnicamente difficile così poi quando lo eseguirò alla velocità regolare per la mente sembrerà molto facile insomma penso di aver detto tutto penso di aver fatto un video un po' completo per cui niente vi saluto perché anche oggi ho fatto la una e mezza un po' completo un po' completo Grazie a tutti